Cita Jayan Karatelpe, del Rocher Institute of Technology di New York. Avevamo un'idea di come sarebbero state le galassie a queste distanze e di quanti dettagli avremmo potuto vedere, ma credo che la realtà superi di gran lunga la nostra immaginazione e ci sorprenda. Immagina di guardare nella narseri cosmica e vedere qualcosa che non dovrebbe nemmeno esistere. Il telescopio James Webb ha appena scoperto galassie che infrangono le teorie moderne. Siamo all'inizio di una nuova era scientifica e al momento nessuno sa dove andrà a parare questo viaggio. Solo una cosa è certa, le ultime scoperte sono rivoluzionarie, sbalorditive e cambieranno per sempre la nostra comprensione dell'universo. Il James Webb Space Telescope è una meraviglia tecnologica da 15 miliardi di dollari. Superando di gran lunga e il telescopio Hubble, per quanto riguarda la portata e la nitidezza delle immagini, dall'estate del 2022 questo telescopio ci fornisce fantastiche immagini dell'universo primordiale, delle lontane nebulose cosmiche, dei minacciosi buchi neri e dei pianeti del sistema solare. Con 16 specchi a nido d'ape e un'esclusiva tecnologia a infrarossi, è il telescopio più straordinario che l'uomo abbia mai costruito. Sembra assurdo, ma questo telescopio era la speranza di molte migliaia di astronomi sulla Terra. Hanno atteso con ansia il suo lancio, sapendo che le nuove capacità del telescopio avrebbero presto mostrato cose che avevano sognato per tutta la vita. Contavano sulla verità, sulla conferma di idee che per lungo tempo erano rimaste solo teorie sulla carta. Ma poi è arrivato lo shock. Il JWST ha fatto il suo lavoro molto bene. Dopo essere stato posizionato in sicurezza nello spazio, il telescopio ha puntato i suoi specchi per oltre 72 ore su un'area del cosmo che sembrava quasi vuota. Tuttavia quest'area appare vuota solo a noi quando guardiamo il cielo dalla Terra. James Webb cattura i segnali luminosi più antichi dell'universo proprio qui, dove non ci sono stelle o galassie vicine che interferiscono in primo piano. Il telescopio è in grado di captare segnali luminosi che viaggiano verso di noi da 13,5 miliardi di anni o più. In questa immagine, dopo tempi di esposizione estremamente lunghi, questi segnali più antichi appaiono come macchie di luce rossa sfocata. La luce arancione è già un po' più vicina a noi, quella gialla ancora di più, e i ben riconoscibili punti di luce blu o bianchi provengono dalle sorgenti luminose più vicine. Quasi tutti i segnali luminosi di questa immagine non provengono affatto da singole stelle. Qui vediamo prevalentemente la luce di galassie molto antiche. Queste galassie scuotono la scienza Forse ti sorprenderà sapere che all'improvviso molti scienziati non erano così contenti di ciò che avevano desiderato per tanto tempo. I risultati non si sono rivelati come avrebbero voluto. Astronomi e cosmologi si misero subito all'opera per analizzare questa immagine. Era chiaro che questa immagine ci avrebbe mostrato le galassie più antiche dell'universo, ma nessuno sapeva quanto fossero realmente vecchie queste galassie, come fossero formate, quanto fossero dense e quali elementi contenessero. Lo shock è arrivato quando, poco dopo la pubblicazione della foto, il ricercatore indiano-americano Rohan Naidoo ha trovato una galassia che esisteva 300 milioni di anni dopo il Big Bang. E non fu l'unica scoperta di questo tipo. Naidoo e il suo team, così come altri gruppi di ricerca internazionali, trovarono una galassia molto antica dopo l'altra. I rapporti si moltiplicarono e presto fu chiaro che con la teoria del Big Bang e la visione cosmologica del passato, qualcosa non poteva essere corretto. Galassie come queste esistevano in un'epoca in cui avrebbero dovuto esistere solo prototipi di stelle. Chi troverà la risposta a tutte le nuove domande? La magia di questa scoperta è stata che molti giovani ricercatori impegnati si sono sentiti incoraggiati a pensare in modo diverso, a continuare a cercare galassie ancora più antiche e a credere possibile ciò che la ricerca conservatrice aveva a lungo rifiutato. Sono state avanzate nuove teorie e sono stati riportati in auge alcuni vecchi modelli dell'universo che non avevano mai ricevuto l'attenzione che avrebbero meritato. Il nostro cosmo viene reinventato scientificamente, per così dire. Quindi il JWST ha deluso solo le aspettative di chi sperava che tutto rimanesse uguale. Per coloro che pensavano già da tempo che la teoria del Big Bang non fosse completamente compatibile con le realizzazioni della moderna fisica quantistica, le nuove realizzazioni sono una conferma. Continuano a cercare la verità sull'origine e la natura del nostro universo e non si affidano solo alle teorie. In realtà questo sviluppo era prevedibile. Una delle ultime grandi scoperte di Hubble è stata la galassia GNZ11, che esisteva a un redshift di 11,6, circa 420 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa scoperta aveva già scalfito la ragione di vecchie concezioni, ma si trattava di un caso isolato e quindi spiegabile. Più alto è il redshift, più lontano nel tempo osserviamo una galassia. Il redshift descrive quanto la luce di una galassia si sia allungata con l'espansione dell'universo. Le galassie scoperte per la prima volta da Rohan Naido e dal suo team avevano un redshift di 13, il che significa che esistevano circa 300 milioni di anni dopo il Big Bang. In seguito è stata annunciata la scoperta di altre galassie con redshift fino a 20Z. Gli scienziati conservatori si difendono finora da questi numeri e fanno notare che tutte queste scoperte sono accompagnate da un grande ma. Perché nessuno di questi spostamenti verso il rosso è stato finora confermato e non è nemmeno provato che si tratti effettivamente di galassie. Tuttavia la luce è innegabilmente presente ed è chiaro che deve essere vecchia, anzi vecchissima. Se non è stata emessa dalle galassie, da dove proviene? Come si determina l'età delle galassie? Un metodo comune per rilevare e determinare gli oggetti molto vecchi nello spazio è ESMAX XJ0723, un effetto di lente gravitazionale. Gli astronomi guidati da Xinjiang dell'Università del Missouri-Columbia l'hanno utilizzata per trovare 88 galassie candidate con un redshift superiore a 11. Il team di Xinjiang ha quindi trovato anche la galassia che ha l'incredibile valore di redshift di 20Z. Queste galassie sarebbero le più distanti mai scoperte se venissero confermate. Le galassie ad alto redshift sono state scoperte in altri due studi in cui JWST ha utilizzato solo esposizioni profonde, senza utilizzare la lente gravitazionale. Queste foto fanno parte dello studio Cosmic Evolutionary Release Science o CHIRS. I CHIR hanno lavorato con le valutazioni della Near Infrared Camera di JWST e con i risultati della NearCam. Ulteriori dati sulle presunte galassie sono stati determinati con lo spettrografo nel vicino infrarosso di JWST o NearSpec, utilizzando altri strumenti come il Mid Infrared Instrument o la Miri Camera. Gli astronomi dell'Università di Edimburgo hanno utilizzato un approccio simile per scoprire un'altra galassia candidata con un redshift di 16,7. Ciò significa che questa galassia esisteva solo da poco tempo. Questa galassia è esistita solo 250 milioni di anni dopo il Big Bang. Il team, guidato dallo studente laureato Callum Donon, ha trovato altre 5 galassie con redshift superiore a 12. Un altro team, guidato da Stephen Finkelstein dell'Università del Texas ad Austin, ha utilizzato il metodo Cheers per scoprire una galassia con un redshift di 14,3 che la colloca 280 milioni di anni dopo il Big Bang. Questa galassia è diventata nota come galassia di Macy. Finkelstein ha subito trasformato la scoperta in un regalo di compleanno per sua figlia Macy. Per ora, queste galassie non sono state confermate, perché non possiamo vedere chiaramente che sono davvero galassie. Le nostre tecnologie non sono ancora sufficienti per questo. I computer lavorano con lo spettro della luce e lo analizzano. Il computer ipotizza che la luce sia stata emessa da galassie. Poi, alcuni algoritmi analizzano lo spettro luminoso e forniscono valori abbastanza precisi su dimensioni, densità, massa, numero di stelle e così via. Tuttavia, questo non prova che la luce sia stata realmente emessa da galassie. Ora si parla anche di buchi neri ultrasupermassicci, che possono brillare in determinate circostanze. Se il computer parte dal presupposto che la luce sia quella dei buchi neri come base per i suoi calcoli, i risultati sono diversi. Quindi, i punti deboli dell'attuale tecnologia risiedono nella determinabilità di ciò che realmente vediamo in quei luoghi. Ma anche se la luce fosse emessa da buchi neri, dobbiamo chiederci come possano essere esistiti buchi neri così giganteschi poco dopo il Big Bang. Il Big Bang potrebbe essere esistito comunque. Tutte queste galassie lontane mostrano prove di una significativa emissione di luce ultravioletta. Questo fornisce ancora una volta la prova della ionizzazione dell'idrogeno gassoso, che secondo i nostri precedenti modelli cosmologici avrebbe dovuto porre fine all'era oscura cosmica. Durante l'età oscura non c'era luce nel giovane universo. Solo quando le prime stelle iniziarono a brillare, l'universo si illuminò. Nel loro lavoro, il team di Edimburgo ha calcolato la luminosità ultravioletta delle galassie candidate tra Redshift 8 e 15. La quantità di luce ultravioletta emessa da queste galassie è stata calcolata in base al numero di stelle emesse. La quantità di luce ultravioletta emessa da queste galassie, in un determinato momento, è stata calcolata in media utilizzando le tecniche di misurazione presentate in precedenza. Le galassie, in genere, emettono più luce ultravioletta delle stelle giovani e calde. Il team di Donon è giunto la conclusione che la radiazione ultravioletta emessa dalle stelle in queste prime galassie era più che sufficiente a ionizzare l'universo. Ciò significa che queste galassie ad alto Redshift appena scoperte potrebbero essere esistite sul punto di diventare luce nel cosmo. A differenza delle galassie odierne, che possono ospitare centinaia di miliardi di stelle, queste galassie sono molto probabilmente distanti, solo poche migliaia di anni luce e contengono solo decine di milioni di stelle. Secondo gli esperti scozzesi, le galassie appena scoperte riflettono generazioni di galassie che si sono formate poco dopo le prime e sono ancora in fase embrionale. L'abbondanza di galassie ad alto Redshift scoperte dal JWST, così come la quantità di luce ultravioletta spostata verso le lunghezze d'onda più lunghe dell'infrarosso, suggeriscono ulteriormente che le galassie erano più numerose all'inizio della storia dell'universo di quanto si pensasse in precedenza. Si tratterebbe di una scoperta completamente nuova, ma che non rovescia necessariamente la teoria del Big Bang. Dovremmo solo correggere le nostre precedenti ipotesi sulla durata dei secoli bui e sulla formazione delle prime stelle e galassie. Secondo il tema di Finkelstein, il nostro cosmo brillava già con molte piccole galassie, meno di 300 milioni di anni dopo il Big Bang. A queste scoperte, però, dobbiamo aggiungere che non sono le uniche nel campo. Altri ricercatori hanno trovato galassie molto antiche nelle immagini del JWST che appaiono molto grandi e massicce. La loro luminosità potrebbe essere stata pari a quella delle galassie attuali. Questi ricercatori concludono che le prime galassie, se sono state le prime, devono essere state dei veri e propri booster stellari. È possibile che in esse si siano formate moltissime stelle giganti, molto luminose e dalla vita piuttosto breve. L'esistenza delle prime stelle giganti era già stata dimostrata a livello computazionale. Tuttavia, i ricercatori non avevano ancora ipotizzato che queste prime grandi stelle fossero già organizzate in galassie. L'astronomo Ren Suez dell'Università della California Santa Cruz ha confrontato le fotografie Hubble e Webb delle stesse galassie scattate intorno al mezzogiorno cosmico. La maggior parte delle grandi galassie sembra essere significativamente più piccola nelle lunghezze d'onda dell'infrarosso misurate da Webb rispetto alle foto di Hubble. Secondo Suez, gli studi di Hubble hanno rivelato che le galassie nascono piccole e si espandono nel tempo. Tuttavia, i risultati di Webb suggeriscono che Hubble non ha visto tutto, indicando che l'evoluzione delle galassie potrebbe essere più complessa di quanto si pensasse in precedenza. Fai clic su iscriviti e guarda molti altri video emozionanti.